Tragedia Senigallia, padre spare, uccide il figlio dopo una lite Baccini, oltre 50.000 prenotazioni per gli over 70, scaldano i motori e le farmacie Villa Marina ha presentato il progetto del comune dopo l'acquisto Sport, nuova sconfitta per la Carpegna Prosciutto Basket contro Reggio Emilia Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre Bentornati, un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News In apertura parliamo di cronaca per il tragico episodio registrato nelle prime ore serali di ieri a Senigallia dove al termine di una violenta lite un giovane di 27 anni è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato dal padre. Tutti i dettagli in questo primo servizio Tragedia a Senigallia, più precisamente nella frazione periferica di Roncitelli dove nel tardo pomeriggio di lunedì si è consumato un omicidio che ha portato alla morte di un giovane di 27 anni, Alfredo Pasquini, ucciso con un colpo di pistola dal padre Loris Nella notte, al termine di un lungo interrogatorio, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto in provincia di Ancona. Il tutto sarebbe iniziato da una forte lite intercorsa tra i due uomini nella villetta bifamiliare in cui entrambi vivevano, Alfredo al piano superiore e Loris insieme all'attuale compagna in quello inferiore. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il proiettile sparato dal padre avrebbe raggiunto la gola del ragazzo. Letali le conseguenze ma il 27enne con le ultime forze raccolte sarebbe riuscito ad allertare i soccorsi. Una volta giunti sul posto però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Per tentare di salvare la vita del giovane era stata allertata anche l'eliambulanza. All'interno della villetta durante l'accaduto pare si trovasse anche la compagna del padre, trovata poi in stato di shock dai carabinieri. Ancora poco chiara e in fase di ricostruzione da parte degli investigatori la dinamica esatta dei fatti che ha spinto l'ex ferroviere in pensione ad azionare l'arma da fuoco contro il figlio. Tra i due c'erano già stati molteplici episodi di liti violente che in diverse occasioni avevano costretto di intervenire le forze dell'ordine. Un testimone avrebbe raccontato che proprio poco prima del verificarsi della tragedia avrebbe visto il 27enne tirare dei calci all'automobile del padre mentre quest'ultimo si trovava al suo interno intento a rientrare nell'abitazione, mentre altri residenti nelle case poco lontane dalla villetta dei Pasquini avrebbero riferito di aver sentito urla e trambusti negli orari riconducibili alla tragedia. Durante l'interrogatorio pare che Pasquini avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato vittima delle violenze del figlio da diversi anni e che avrebbe impugnato la pistola e poi sparato per difendersi dalle percosse di quest'ultimo. Sarebbe stato accertato intanto che il 73enne detenesse illegalmente l'arma del delitto e che il suo porto d'armi sarebbe stato ritirato diverso tempo fa. L'accusa nei confronti del ferroviere in pensione è di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di parentela con la vittima. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 27enne. Parliamo ancora di cronaca perché durante alcuni controlli effettuati dai carabinieri nel pomeriggio di ieri nella zona del parco Miralfiore è scattata la denuncia per un trentenne residente a Fano. L'uomo è stato fermato e identificato insieme ad un coetaneo che si trovava insieme a lui e durante la perquisizione gli uomini dell'arma lo hanno trovato in possesso di un coltello serramanico e due spranghe di ferro. Il trentenne pare fosse già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a spaccio e a risse. Vista poi l'assenza di motivi validi per allontanarsi dal comune di residenza, per i due è scattata la sanzione legata alle restrizioni anti-covid e della zona rossa. Parliamo ancora di cronaca e ci spostiamo adesso a Fano perché è stato convalidato ieri l'arresto con condanna a un anno e dieci mesi e l'autorizzazione all'espulsione nazionale per il 26enne nigeriano che nel fine settimana, in evidente stato di alterazione alcolica e privo di mascherina, si era introdotto all'interno del supermercato Eurospin ed aveva iniziato a tossire contro i clienti presenti all'interno del punto vendita. Gli agenti di polizia appena giunti sul posto avevano rintracciato il giovane poco distante dal supermercato, nei pressi della stazione ferroviaria. Il 26enne era stato poi sottoposto a tampone molecolare risultando negativo al covid-19 e rassicurando così tutte le persone che si trovavano all'interno del supermercato nel momento dell'accaduto. E parliamo ora degli aggiornamenti per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti-covid-19 in regione perché sono stati altissimi i numeri di iscrizione dei cittadini over 70 a poche ore dopo l'apertura delle prenotazioni. Nel frattempo per la campagna domiciliare a Pesaro scendono in campo anche le guardie mediche e le farmacie si preparano per le somministrazioni dopo il raggiungimento dell'accordo a livello nazionale. A poche ore dall'apertura delle prenotazioni per la vaccinazione anti-covid dei cittadini marchigiani d'età compresa tra i 70 e i 79 anni, sono stati oltre 50.000 gli utenti che hanno preso appuntamento per la somministrazione e che saranno vaccinati nel mese di aprile e nei primi giorni di maggio. Il volume di prenotazioni raggiunte nelle prime sei ore rappresenta quasi la metà dell'intero target di riferimento della fascia d'età compresa tra i 70 e i 79 anni, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il quale ha poi provveduto a ringraziare tutti gli enti preposti per l'organizzazione del sistema. L'impossibilità di prenotazione riscontrata da qualche utente nel pomeriggio, ha precisato a poste italiane dovuta al caricamento soltanto parziale di una lista di nomi, è stata risolta in breve tempo garantendo l'appuntamento a tutti i richiedenti. Sempre da ieri inoltre sono attive le liste di adesione per la vaccinazione dedicata ai soggetti estremamente vulnerabili che non risultano seguiti dalle strutture assistenziali regionali ospedaliere non e che non hanno generato un'esenzione ticket. Per iscriversi è necessario consultare il sito della Regione Marche nella sezione dedicata ai vaccini. Gli referenti degli ospedali provvederanno a chiamare direttamente i pazienti iscritti alla lista per concordare l'appuntamento vaccinale. Sempre nella sezione vaccini del sito della Regione sono state aperte le liste di prenotazione anche per le persone con gravi disabilità che non sono assistite dalle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. I coordinatori dell'equipe di Medicina Generale provvederanno a chiamare i pazienti iscritti alla lista. Per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio invece nel distretto di Pesaro scenderanno in campo anche le guardie mediche che andranno quindi a supportare l'azione dei medici di base per la campagna domiciliare. Una decisione presa in seguito alla bassa disponibilità registrata sul territorio pesarese dei medici di famiglia con adesioni inferiori al 60%. Sabato sera ho fatto un incontro virtuale logicamente come ormai facciamo quasi ogni giorno con i coordinatori di echipe territoriali e con le referenti delle guardie mediche quindi della continuità assistenziale del mio distretto che hanno dato la disponibilità faremo una sorta di chiamata alle armi da parte degli uffici competenti dell'area Vasta 1 e speriamo di aumentare il numero dei medici. È notizia di ieri invece la firma del protocollo da parte del ministro della salute Roberto Speranza insieme alle regioni e ai farmacisti per far partire in sicurezza le somministrazioni vaccinali anche in farmacia. Adesso servono applicazioni a livello regionale quindi ogni regione dovrà decidere il percorso ad attuare a cominciare dalla formazione dei farmacisti che diventeranno farmacisti vaccinatori questa è una cosa molto molto importante. L'Istituto Superiore di Sanità ha già fatto partire un corso di formazione a cui stanno iscrivendosi e aderendo in tanti farmacisti da tutta Italia. Una volta che il farmacista è formato e che si è trovato l'accordo a livello regionale si parterà tutti per la vaccinazione che non riguarderà le categorie deboli o protette ma riguarderà diciamo le persone che sono in salute e che possono recarsi tranquillamente in farmacia rispetto anche al piano di vaccinazione che verrà stipulato a livello nazionale. E dietro di questo ovviamente servirà senza meno la presenza del vaccino. All'oggi non ci sono dosi per cui si giustifica la presenza delle vaccinazioni in farmacia. Crediamo che nel giro di 4-5 settimane diciamo entro il mese di aprile si possa partire a pieno titolo nella fase cosiddetta fase 2 in cui oltre alle categorie già protette quindi gli ultra ottantenni e settantenni che in questo momento vengono ancora vaccinate e le categorie deboli, fragili, i cosiddetti soggetti fragili si possa poi partire con la vaccinazione di mascia a tutta la popolazione. La pagina quotidiana con gli aggiornamenti covid sul territorio regionale e il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.334 tamponi, 3.120 nel percorso nuove diagnosi di cui 1.321 nello screening con percorso antigenico e 2.214 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 10,7%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 333 di cui 100 sono stati riscontrati in provincia di Pesaro e Urbino. Nella serata di ieri il servizio sanità ha notificato il decesso di 13 persone, 5 di queste erano residenti nella provincia pesarese. Ed è arrivato oggi l'annuncio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci relativo all'acquisto da parte del comune di una parte del comprensorio di Villa Marina, un'operazione che prevede diversi interventi tra cui il ripristino del parcheggio gratuito già attivo la scorsa estate, l'organizzazione di una rinnovata isola pedonale nella zona mare e un bando per la gestione della palestra presente nella struttura. Vediamo i dettagli in questo servizio. Un parcheggio gratuito per la zona Porto Mare, un centro sportivo e l'utilizzo dei locali di Pesaro Studi per gli studenti della Dante Lighieri in attesa della realizzazione della nuova scuola. Sono questi gli interventi annunciati dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per Villa Marina. La struttura, attualmente di proprietà dell'Inps, vedrà il comune di Pesaro impegnare la cifra di 1 milione e 300 mila euro per l'acquisizione dell'area a sinistra di Viale Trieste. Più precisamente, il comune realizzerà in maniera definitiva all'interno dell'ex area sportiva il parcheggio gratuito per la zona Porto Mare già proposto nella scorsa estate. Quest'operazione, ha spiegato Ricci, permetterà poi di riproporre anche per la prossima stagione l'area pedonale su Viale Trieste, per la quale però sono in programma diverse modifiche e miglioramenti. Insieme all'ex zona sportiva, l'acquisto del comune prevede anche l'ex palestra di Villa Marina, per la quale a sua volta è prevista un'importante novità. Oltre al parcheggio abbiamo acquisito anche l'area sportiva dove c'era la palestra che metteremo a bando in affitto, in modo tale che con l'affitto pagheremo anche l'investimento negli anni che stiamo facendo per il parcheggio e per l'area sportiva. L'area sportiva ripartirà alla grande, ci sarà un bando entro un mese, in modo tale che possa riaprire per l'estate e ovviamente coloro che sono interessati dovranno partecipare nella gestione. Il resto del complesso di Villa Marina rimane di proprietà dell'Inps, la parte della ex colonia verrà messa in vendita, ci risulta che ci siano diversi interessamenti veri questa volta, anche grazie agli incentivi fiscali che ci sono sulla trasformazione urbana e sulla trasformazione, sull'efficientamento energetico. E invece la palazzina di Pesoro Studi, che è invece apposta da tutti i punti di vista, sia sismico che strutturale, abbiamo chiesto di utilizzarla come scuola muletto, perché quest'anno abbiamo finanziato la nuova scuola Dante Alighieri, dovremo spostare per un anno o due gli studenti da quella scuola, mentre si realizzeranno i lavori di una nuova scuola al massimo dell'efficientamento energetico, simile a quella di Via La Marmora, e quindi abbiamo chiesto all'Inps di poter utilizzare per un anno o due la scuola, la vecchia palazzina di Pesoro Studi, per la scuola Dante Alighieri, in modo tale che lo spostamento da Soria qua possa creare meno disagi possibili per gli studenti, per i genitori e anche per gli insegnanti. Ed è stata approvata in consiglio regionale la mozione del consigliere dei civici Marche, Giacomo Rossi, che richiede al governo di implementare gli aiuti ai circoli ricreativi, culturali e sociali delle Marche, fortemente penalizzati in questi mesi con le chiusure imposte anche in zona gialla. Una mozione ha dichiarato il consigliere, maturata dal confronto con vari circoli e associazioni del territorio. Nuovo appuntamento con lo streaming degli spettacoli del Rossini Opera Festival, venerdì 2 aprile alle 21, giorno delle celebrazioni del venerdì santo, lo Stabat Mater eseguito nel festival del 2015 sarà trasmesso gratuitamente sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del ROF. Il concerto resterà disponibile per le successive 24 ore. E attraverso i social sono arrivati da tanti cittadini i messaggi di cordoglio e affetto per la scomparsa di Dino Brisigotti, titolare della storica Autoscuola Dino, con sede in Viaggiolitti e anche a Osteria Nuova, conosciuta e frequentata da numerosi pesaresi. Alla famiglia e agli amici le condoglianze anche da tutta la redazione di Rossini TV. E ora cambiamo argomento e parliamo di scuola perché si sono svolte ieri le premiazioni di Scuola di Alternanza, il progetto promosso dalla Camera di Commercio delle Marche che ha l'obiettivo di dare risalto alle esperienze di scuola lavoro vissute dagli studenti. Vediamo. Sono stati annunciati ieri gli studenti marchigiani vincitori di Scuola di Alternanza, progetto promosso dalla Camera di Commercio delle Marche che vuole dare visibilità attraverso dei videoracconti all'esperienza di alternanza scuola lavoro vissuta dagli studenti di diverse scuole della regione. Tante le tematiche al centro dei progetti vincitori per i quali è stato previsto anche un contributo economico, dal sociale alla poesia, dal patrimonio storico delle città alla sicurezza. In totale sono state nove le classi e di conseguenza gli istituti premiati, per i quali è stato mostrato un video che ha raccontato il lavoro svolto. Tra i vincitori anche due rappresentanze provenienti proprio da Pesaro, la classe quarta N del liceo Marconi che ha ideato la costruzione di un box per disinfettare gli indumenti e la terza A del Bramante Genga, che ha invece illustrato Wall-E Security, progetto relativo alla creazione di un portafoglio con lucchetto per proteggere da eventuali furti e per il quale la Camera delle Marche ha manifestato il proprio impegno per procedere con la brevettazione. Come la didattica, anche la premiazione si è svolta online, preceduta da una breve riflessione del presidente Gino Sabatini sul progetto e sulla complicata situazione attuale per il mondo scolastico a causa della pandemia. È evidente che il Covid ci ha ristritto le misure, la didattica a distanza hanno bloccato questo utile ed efficace rapporto tra sistema scolastico e sistema delle imprese, ma sono certo che la ripresa completa delle attività consentirà la ripresa piena anche del progetto di alternanza scuola-lavoro. Sto parlando di un investimento formativo ed educativo che può dare vita a una regione più forte, a un Paese più solido, ma soprattutto a una società più aperta ed inclusiva. Ecco perché mi piace in questa sede fare un riferimento anche ai progetti che hanno caratterizzato questo straordinario scambio. Nella maggior parte dei casi si sono caratterizzati per un elevato standard di innovazione tecnologica e come Presidente della Camera di Commercio delle Marche, ente nel quale sono presenti tutte le associazioni di rappresentanza, quella degli inventori, quella dei lavoratori, essere testimoni di progetti così qualificanti, mi inorgoglisce e conferma la mia certezza, le Marche sono una regione straordinaria. Sono perfettamente consapevole che le lezioni in via digitale stanno aprendo vecchie e nuove fratture, mi riferisco ad esempio alle penalizzazioni verso chi non si può permettere un computer in casa, verso chi non ha un collegamento internet stabile e veloce, stanno aumentando le diseguaglianze e temo che ci si stia verificando un progressivo silenzio e abbandono di studenti. Abbiamo bisogno che le lezioni tornino e me lo auguro veramente, tornino in presenza e che lo sguardo dell'insegnante in classe torni a monitorare velocemente le richieste degli allievi e le sensazioni che gli allievi hanno in quel momento. Il progetto è stato confermato anche per la sua quarta edizione e il bando è già online sul sito di Camera Marche. Gli audiovisivi potranno essere inviati fino all'8 ottobre 2021. E apriamo anche oggi la pagina sportiva del nostro telegiornale per parlare questa volta di basket con il match che ha visto impegnata ieri sera la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro Reggio Emilia. Incontro che è terminato però con una nuova sconfitta dei Biancorossi come sentiamo in questo servizio. Quarta sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che torna senza i due punti dall'Unipol Arena di Casalecchio dove il posticipo della 24esima giornata di Serie A è andato a Reggio Emilia per 91-79. I Biancorossi restano dunque in ottava posizione a quota 18 punti. Coach Repeja che ha potuto contare sul ritorno in maglia biancorossa di Ebois e di Massenat recuperato dall'infortunio ha aperto il match decidendo di mandare in quintetto Robinson, Drell, Filipovic, Kane e Tambone che ha messo a segno i primi punti dei biancorossi. Durante la partita la squadra non è riuscita a coprire e a recuperare la distanza dagli avversari segnata già nel primo periodo quando il punteggio vedeva i padroni di casa sopra di 9 punti. A conclusione del primo tempo e con l'avvio delle squadre verso gli spogliatoi i biancorossi erano sotto di 12 e al rientro sul parquet Reggio Emilia ha registrato il massimo vantaggio di serata con il risultato parziale di 62-39. Tra i biancorossi il miglior realizzatore di serata è stato Carlos Delfino, autore di 14 punti. A fine match il presidente Ario Costa ha commentato la gara giocata contro gli emiliani affermando la sofferenza biancorossa sotto tanti aspetti e sottolineando poi che fino al termine della stagione tutti gli incontri saranno importanti e più che mai difficili visti gli obiettivi e l'ambizione di ogni squadra. Nota positiva il rientro di Massenat, ma Costa ha ricordato la necessità per la squadra di guardarsi le spalle e pensare in ottica salvezza. Nel prossimo turno di sabato 3 aprile, valido per la 25esima giornata di Serie A, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro tornerà sul parquet casalingo della Vitrifrigo Arena per la sfida contro la De Longhi Treviso. In chiusura un flash di sport arrivato poco fa in redazione perché l'Ital Service Pesaro ha comunicato che nei numerosi controlli effettuati nei giorni scorsi da tutto il gruppo squadra sono emerse 5 positività al Covid-19. La società ha immediatamente provveduto ad avvisare le autorità competenti, fra cui la divisione Calcio a 5. Divisione che ha quindi provveduto al rinvio a data da destinarsi della partita Acqua e Sapone Ital Service prevista per sabato 3 aprile. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera in prima serata su Rossini TV a partire dalle ore 21.15 con le repliche di Giocarte. Il programma realizzato da Rossini TV è dedicato ai più piccoli che potrete rivedere quindi questa sera in prima serata alle 21.15. E torna puntuale invece giovedì alle 21.15 un nuovo appuntamento con insieme a Canestro il programma di Rossini TV condotto da Marco Cadeddu sulla Carpegna Prosciutto Basket. Ospiti di questa puntata saranno l'ex giocatore della VL Federico Pieri, il responsabile dell'intrattenimento l'Ape Andrea Rinaldi e poi il cofondatore dell'Inferno Bianco Rosso Roberto Tomasoli. Quindi insieme a Canestro un nuovo appuntamento giovedì alle 21.15 su Rossini TV. Continuano anche gli appuntamenti per le celebrazioni pasquali in diretta su Rossini TV. Vi ricordiamo domani mercoledì 31 marzo alle ore 18 in diretta l'appuntamento con la messa Crismale e poi giovedì primo aprile sempre alle ore 18 l'appuntamento con Incena Domini. Ancora celebrazioni pasquali in diretta su Rossini TV. Venerdì 2 aprile sempre alle ore 18 l'adorazione della croce. Sabato 3 aprile a partire dalle 19 la veglia pasquale e poi infine domenica 4 aprile alle 11.30 la messa per il giorno di Pasqua. E poi ovviamente l'informazione torna puntuale in diretta su Rossini TV domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.